Grazie a tutti. Di imparare soprattutto un sistema rapido e efficace per passare da un'idea ad un progetto in un tempo molto breve. Io non avevo una benché minima idea di cosa fosse un Fab Lab e quindi ero molto incuriosita da provare a sperimentare proprio come si passava dall'ideazione di un progetto alla realizzazione, addirittura anche per la parte di promozione e marketing, tutto in pochissimo tempo con questi macchinari di cui ho solo sentito parlare, di queste stampanti, ma mai viste in vita mia. Abbiamo scelto di ipotizzare un piccolo dispositivo che fosse in grado di aiutare la convivenza pacifica tra coinquilini. È un oggetto che vive anche di ironia, insomma, indicatore di quanto ogni coinquilino contribuisce agli spazi comuni. Ad ogni attività in casa, come può essere pulire il cesso o tante altre attività, è associato un punteggio e attraverso un Arduino avviene un calcolo delle attività svolte da ogni coinquilino. Allora, io questo qua, bello, perché è un fantastico oggetto, non lo facciamo davvero. Cioè, questo è il vostro prototipo, io facciamo davvero, come si chiama. Ci siamo accorti che era completamente da rifare, tutto dal disegno della scatola, tutto da rifare. C'erano Sara, comunque le altre ragazze che ci hanno aiutato e quindi insomma eravamo un po' più fiduciosi perché nel giro di un paio d'ora abbiamo rifato anche Arduino e tutto. Sono stati molto di sostegno, se no, non so come avremmo fatto. Per quanto riguarda lo staff di WeMake, ognuno di loro, ogni personaggio che gravitate intorno alle lezioni prima, magari a seguirci sul progetto poi, avrà delle competenze comuni su alcune cose, ma per altri versi molto di settore. Anche a pranzo, momenti che non ti aspetti, metropolitana, qualcuno del gruppo viene lì e ti dà dei consigli, apre un piccolo dibattito su alcuni aspetti del lavoro che mi stai portando avanti. E questo è stato, forse, una delle parti più fighe di tutta la faccenda. Poi per quanto riguarda la conclusione del lavoro, l'idea è quella di darlo a qualche amico che ha come una situazione di coinquilinaggio un po' così hardcore e vedere se questo oggetto può servire a qualcosa, ma anche così mantenendosi sul livello ironico su cui questo oggetto è nato.